Buongiorno, buongiorno con le stelle. Io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com Buongiorno e buona settimana. È la settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre 2022. E proprio la sera del lunedì del 31 ottobre, ovvero la vigilia di ogni santi e anche la festa, adesso definita Halloween, ma nei tempi antichi definita Sowin o Samonios in lingua gallica, che indicava appunto la ricorrenza in cui i mondi, i due mondi, l'invisibile e quello nostro visibile materiale, si toccavano e il velo era più sottile. Era un periodo di ricollegamento con gli antenati, quindi era il momento di chiudere l'anno, il periodo della raccolta, ringraziare per i doni, per i raccolti. Iniziava il nuovo anno, perlomeno per le popolazioni celtiche, e era anche la notte, o meglio erano tre notti, in cui si onoravano anche gli antenati, i defunti. E quindi c'era questo filo che legava dal passato al presente e al futuro, la stirpe, quindi con il ringraziamento per l'abbondanza, per i doni della natura, quindi della madre cosmica. Ma era davvero la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, in cui ricorreva questa importante festività legata ai celti, ai pre-celti, ma anche ai romani e ad altre popolazioni. Ebbene, per i celti queste tre notti, a che adesso sono chiamate Halloween, che erano chiamate appunto Samonios, erano in corrispondenza della levata eliaca di Antare. Santare è la stella più luminosa della costellazione dello Scorpione, e nel periodo, diciamo nel 500, nel 600 a.C., sorgeva proprio in corrispondenza del periodo autunnale. La levata eliaca è quando una stella si leva, sorge all'orizzonte appena prima del sole, quindi è visibile per pochissimo. Ma siccome i celti avevano un calendario lunisolare, non era esattamente il giorno in cui Antares sorgeva appena prima del sole, ma doveva essere anche in corrispondenza della luna nuova. In sostanza, spesso era, quindi Halloween, quella che adesso viene chiamata Halloween, che ancora adesso in alcune tradizioni viene chiamata Sawin, era una festa che si celebrava in corrispondenza della luna nuova, spesso la prima luna nuova seguente l'equinozio d'autunno. Quindi, a seconda di quando si levava Antares come levata eliaca e a seconda di quando cadeva la luna nuova, la festività di Sawin veniva celebrata appunto tra l'inizio e la metà di novembre. Ora, per via della precessione degli equinozi, non abbiamo più la levata eliaca di Antares in questo periodo, anzi, la levata eliaca di Antares avviene nelle giornate del solstizio d'inverno, il 23 dicembre. Quindi non abbiamo più questo riferimento, diciamo, siderale. Però c'è stata la luna nuova il 25 ottobre e la prossima luna nuova sarà il 23 novembre. Quindi, in realtà, forse Halloween andava celebrata in una di queste due date. In realtà siamo nel periodo, siamo esattamente nelle energie di questo periodo in cui l'oscurità avanza, in cui le giornate diventano sempre più corte e quindi tutto questo dovrebbe indurre alla riflessione, all'introspezione, appunto a ricollegarsi con quello che è una sfera più intima, più spirituale, e anche il collegamento quindi con gli antenati, perlomeno come ringraziamento, perché è grazie a loro che noi siamo qui in questo momento. Queste sono tutte riflessioni che possiamo fare proprio in questo periodo, che sia nella notte di Halloween o la Vigilia di Ogni Santi, o che sia anche nei prossimi giorni, perché in realtà siamo esattamente dentro questo periodo, forse il periodo più sacro dell'anno, quello che ci introduce poi all'oscurità, che non deve far paura, perché è come l'oscurità del grembo materno, quello in cui possiamo rigenerarci. Ebbene, questo ci porterà poi al solstizio e quindi alla rinascita della luce. La luce dobbiamo coltivarla dentro di noi, sostanzialmente. Quindi, tutto questo discorso introduttivo per augurarvi un buon Halloween, un buon Halloween e andiamo a vedere cosa ci aspetta questa settimana dal punto di vista astrologico. Bisogna dire che non avviene nulla di eclatante questa settimana, non ci sono particolari eventi e in effetti questi eventi si sono tutti concentrati nella giornata di domenica 30 ottobre. E vi ricordo che è l'entrata di Giove nei Pesci, quindi Giove retrogrado dalla Riete è rientrato nel segno dei Pesci, rimarrà solo negli ultimi due gradi del segno dei Pesci. Sempre nella stessa giornata, Mercurio, invece che non è retrogrado ma è diretto, è entrato nel segno dello Scorpione. E infine Marte, invece, è diventato retrogrado. Marte si trova nel segno dei Gemelli, è arrivato a 25 gradi e per il momento, anche se retrogrado, retrocede di pochi decimi di grado e quindi rimane sempre intorno al venticinquesimo grado dei Gemelli. Questi sono state le, diciamo, i movimenti più importanti dei pianeti, mentre questa settimana ci sarà semplicemente il primo quarto della Luna nel segno dell'Acquario, Marte di primo novembre. Per il resto non ci sono altri importanti movimenti. Ma vediamo dove si trovano quindi i pianeti. Facciamo una piccola analisi per poi andare a vedere come questo si riflette sui singoli segni zodiacali. Dunque abbiamo ora nel segno dello Scorpione il Sole, Mercurio e Venere e la bilancia rimane quindi sguarnita. La bilancia fino a due settimane fa aveva tutti questi pianeti veloci nel suo segno e ovviamente adesso rimane senza visitatori e che si sono spostati tutti nel segno dello Scorpione. Questo porta probabilmente un po' più di energie positive, di risorse per gli Scorpioni che sono stati a lungo tartassati dai transiti e quindi vedremo un po' come se la caveranno. Poi abbiamo la Luna che inizia la sua corsa questa settimana nel segno del Capricorno e la finirà nel segno dell'Ariete. Quindi percorrerà oltre al Capricorno l'Acquario, i pesci e l'Ariete. In Capricorno abbiamo sempre Plutone al ventisesimo grado, in Acquario abbiamo Saturno al diciottesimo grado e ora abbiamo in pesci Giove e Nettuno. Giove appunto è a 29 gradi e Nettuno a 22 gradi, entrambi retrogradi. Poi in Ariete non abbiamo niente in questo momento, in Toro abbiamo sempre Urano a 17 gradi del Toro. E quindi questa è la situazione di dove sono diciamo piazzati i pianeti in questo momento. C'è da dire che è ancora attiva la quadratura tra Saturno e Urano, ne abbiamo parlato diverse volte, è questa quadratura veramente spinosa che ha messo in moto e fomentato tutta la situazione globale, economica, quindi di crisi che stiamo vivendo. E oltretutto, soprattutto verso la fine della settimana, sarà esacerbata dalla presenza proprio dei pianeti veloci che arrivano a fronteggiare Urano. Quindi si chiude una, si chiama un quadrato a T, cioè Sole, Mercurio e Venere si oppongono a Urano e quadrano Saturno, il quale a sua volta quadra anche Urano. Ebbene non è una bella situazione, è sempre molto, anche se adesso Saturno è diretto, per cui piano piano si allontanerà da Urano, è sempre comunque una situazione molto delicata, molto fragile, molto sensibile. E questi pianeti, seppure veloci, come Venere, Mercurio e lo stesso luminare, il Sole, potrebbero, diciamo, è un po' come una polveriera sul punto di scoppiare. Quindi teniamo incrociate le dita che non ci siano eventi che sfugano di mano in modo fatale. Tra l'altro continua ad esserci la quadratura tra Marte e Nettuno, che abbiamo visto accuire le contrapposizioni ideologiche, e purtroppo il fatto che Giove si inserisca in questa cosa, perché inizia a formare una congiunzione, seppure piuttosto larga, con Nettuno, anche Giove si inserisce nella quadratura con Marte. Ebbene, siamo proprio in un momento molto, molto delicato. Ragazzi, teniamo incrociate le dita. Questo ovviamente a livello globale, nella situazione generale che stiamo vivendo nella società, nel mondo, ma andiamo a vedere nelle situazioni individuali, o perlomeno cercando di focalizzarci sui segni, quindi sui singoli segni, come potremmo vivere la situazione, vista dal punto di vista delle energie che investono il nostro segno zodiacale. Iniziamo, come sempre, dal primo segno dello zodiaco, l'ariete, nostro segno di fuoco cardinale, ovvero di inizio stagione, e vediamo appunto che l'ariete si è svuotato. Prima c'era la presenza di Giove che dava una certa spinta ai nativi, soprattutto quelli nati nella prima decada, perché, insomma, Giove è un'energia espansiva che rende più ottimisti, più vitali, più vogliosi di, diciamo, uscire verso il mondo, verso l'esterno. In realtà questa energia è ancora percepibile da parte di chi è nato nei primi due giorni del segno e non si farà, diciamo, la sua mancanza non si farà sentire per molto perché in realtà tra un paio di mesi Giove rientrerà nell'ariete e questa volta non si fermerà nella prima decada ma percorrerà tutto il segno, anche se un po' velocemente, per cui mi spiace dire che seconda e terza decade sentiranno gli influssi di Giove in modo un pochino meno forte di chi appartiene alla prima decada che ha potuto contare su questa presenza per parecchi mesi. Le altre energie astrali positive all'ariete sono quella di Saturno e quella di Marte che agiscono rispettivamente sulla seconda e sulla terza decade. Saturno dà questa energia rivolta alla costruzione, alla costanza, alla serietà, alla disciplina mentre Marte dà comunque una bella energia esplosiva piena di forza, di volontà e di voglia di fare anche in questo caso. Per questa settimana i pianeti veloci come Venere, Mercurio e anche il Sole non hanno una particolare rilevanza per l'ariete e veniamo quindi alla luna, su dove e come si pone la luna. Allora, per la prima giornata di lunedì essendo tra il Capricorno e l'Acquario congiunta Plutone in una posizione quindi non favorevole all'ariete possiamo pensare che questa giornata non sia proprio il massimo per i nostri arieti, soprattutto se appartenenti alla terza decade ma non durerà molto perché alle 16.42 la luna entra in acquario e quando entra in acquario invece ha un effetto positivo sulle emozioni, sulle emotività degli arieti e questo effetto positivo dura fino alla sera di mercoledì. Giovedì e venerdì vedono una luna piuttosto neutra per gli arieti, stiamo sempre parlando degli arieti e sabato e domenica la luna entrerà proprio nel segno dell'ariete quindi dando una bella sferzata di energia emotiva, di voglia di mettersi in gioco soprattutto. Cari arieti, evitate dunque le cose troppo impegnative nella giornata di lunedì mentre tutto il resto della settimana scorrerà piuttosto positivamente. E arriviamo al Toro. Nel Toro in questo momento c'è Urano, c'è la presenza di Urano, è una presenza che dura sette anni, Urano rimane in un segno per sette anni, Urano è entrato nel segno del Toro nel 2018 e ci rimarrà fino al 2025. È nella seconda decade del Toro e questa presenza rende molto attivi, un po' elettrici, un po' discontinui a volte i nativi del Toro che sono invece abituati a un ritmo più placido, però è sicuramente una bella spinta ad agire e a realizzare perché Urano è un pianeta che spinge a essere pragmatici e a realizzare le cose. Bene, abbiamo visto che in questo momento Urano è impegnato in una quadratura con Saturno che è un aspetto di blocco, di conflitto e quindi Urano e Saturno sono entrambi pianeti collegati alla produttività, all'economia e quindi questo abbiamo visto causare a livello archetipico, ovviamente a livello simbolico, però in effetti vediamo riprodotta questa conflittualità nella nostra situazione materiale. E in questo momento i nativi del Toro stanno vivendo l'opposizione da parte di Sole, Venere e Mercurio. E questo di solito è il periodo dell'anno per i tori in cui insomma c'è un po' di stanchezza, non tutte le cose filano come si vorrebbe e quindi c'è un pochino di stasi magari. L'opposizione di Venere e Mercurio in particolare indicano anche problematiche collegate alle relazioni, alla comunicazione. Sono cose di poco conto perché in fin dei conti tanti pianeti lenti stanno invece appoggiando il Toro. mi riferisco soprattutto a Nettuno e adesso in questo momento anche Giove che stanno avendo un effetto soprattutto sulla terza decade, quindi un effetto positivo. Nettuno agisce soprattutto sulla creatività, sulla fantasia, sulle idee, mentre Giove porta abbondanza, appunto espansione. Ma anche Plutone è un buon aspetto e sempre la terza decade, quindi diciamo che la terza decade del Toro fa incetta di buone energie celesti. La seconda decade se la cava abbastanza bene, mentre la prima decade è un po' sguarnita di supporti, di sostegni astrali. Ma vediamo come va con le energie emotive collegate alla Luna. Quindi la lunedì si apre con una bella Luna in Capricorno, bella per il Toro ovviamente, quindi con una sorta di sicurezza, di centratura. Ma poi dal tardo pomeriggio del lunedì, quando entra in acquario, fino alla serata delle mercoledì, la Luna in acquario non è proprio il massimo per l'emotività del Toro. Ecco, queste saranno le giornate, le serate dove ci si potrebbe arrabbiare con qualcuno, discutere con qualcuno, rimanere mortificati per qualcosa che viene detto. Invece poi si recupera tranquillamente dalla serata del mercoledì a quella di venerdì con la Luna in pesci positiva che quindi riesce a rasserenare gli animi. Mentre il weekend c'è una Luna in ariete, quindi piuttosto neutra nei confronti del Toro. I gemelli vedono sempre Marte protagonista del loro cielo, appunto Marte è nella terza decade, come dicevo prima, e quindi infonde tante energie, tanta baldanza, tanto coraggio, voglia di un po' di strafare a volte ai nativi della terza decade. Ecco, attenzione, perché in questo momento i nativi della terza decade subiscono anche la conflittualità, la dissonanza di Giove e Nettuno e questo può portare ad azioni sì impetuose, forti, ma anche un po' sconsiderate, non supportate, diciamo, da considerazioni più meditate e mirate, per cui attenzione a non agire un po' in modo sconclusionato, un po' avanvera. I nativi della seconda decade sono sicuramente più stabili, più forti, perché hanno il supporto di Saturno, un pianeta molto di razionalità, cosa che è nelle corde, tra l'altro, dei gemelli, mentre i nativi della prima decade non hanno supporti importanti da parte dei pianeti. E vediamo invece cosa succede a livello emotivo con la Luna. Dalla sera del lunedì la Luna è in un segno favorevole ai gemelli, quindi sarà una Luna che vi porta buone intuizioni, capacità di socializzare, fino alla sera del mercoledì. mentre attenzione agli sbagli, alle sviste, al prendere sotto gamba alcune situazioni, soprattutto dalla sera del mercoledì fino a quella del venerdì, quando la Luna è in pesci, quindi in un segno dissonante al vostro, dove potrebbe in particolare fare qualche sgambetto ai nativi della terza decade. La situazione torna più equilibrata sabato e domenica con una bella Luna, bella per voi in ariete. Per il Cancro le cose stanno andando finalmente un po' meglio proprio grazie al passaggio dei pianeti veloci nel segno dello Scorpione che è un segno amico, alleato del Cancro. Ma anche Giove tornato nei pesci sicuramente vi dà una mano. Vi ricordo che sia Cancro che pesci che Scorpione sono tutti segni d'acqua. Quindi avete un bel mazzo di carta in mano, cari Cancri. Avete il supporto di Urano, quello di Giove Nettuno, quello di Mercurio, Sole e Venere. Insomma, è veramente tanta roba. Rimane sempre la dissonanza di Plutone e che colpisce chi è nato nell'ultima settimana del segno. Però, insomma, è una presenza ingombrante e che dura da tanto tempo, ma grazie a questi altri supporti sarete in grado veramente di reagire e di regolarvi bene. Vediamo dal punto di vista emotivo cosa succede. Ebbene, il lunedì forse è la giornata un po' più no rispetto alle altre con magari le emozioni un po' arruffate, un po' in disordine. Ma sicuramente la situazione migliora soprattutto dal mercoledì sera fino al venerdì. Questa è con la luna, queste giornate con la luna in pesci vi aiutano sicuramente a rimettere tutto un po' in ordine, tutto a posto. E un weekend piuttosto tranquillo con una luna in un segno neutrale per voi. Ed eccoci al leone che dopo aver goduto di qualche supporto da parte dei pianeti, ebbene, in questo momento si ritrova un po' tutto contro perché Sole, Mercurio e Venere in questo momento sono in un segno dissonante, Urano pure e Saturno anche. Quindi, cari leoni, non è il momento di strafare, anzi, state un attimo schisci, come si dice a Milano, e navigate sotto costa, non avventuratevi in alto mare. Dal punto di vista emotivo, la settimana anche non è molto soddisfacente, è rara di gratificazioni, che verranno soprattutto nel corso del weekend, il sabato e la domenica, con una luna in un segno alleato. Quindi non disperdete le energie, fate quello che dovete fare senza aspettarvi chissà che cosa. I tempi cambieranno, ovviamente, quindi abbiate pazienza. Per la Vergine non va molto male, a dire la verità, anche se Giove è rientrato in un segno opposto alla Vergine nei pesci, quindi c'è un'opposizione che riguarda soprattutto chi è nato nella terza decade, perché sia Giove che Nettuno sono nella decade opposta dei pesci. Quindi, gli appartenenti alla terza decade della Vergine dovranno magari fare un po' più d'attenzione, soprattutto se devono prendere delle decisioni, se devono compiere dei lavori di precisione e di attenzione, perché potrebbero essere un po' distratti, un po' poco focalizzati. Per il resto, però, soprattutto per la prima e la seconda decade della Vergine, va piuttosto bene, perché Sole, Mercurio e Venere sono in un segno alleato, Urano anche e Plutone anche, quindi le cose vanno progredendo e migliorando. Dal punto di vista emotivo, la settimana inizia bene, il lunedì, con la luna in Capricorno, quindi con sicuramente molta più capacità di focalizzazione. Ecco, le giornate a cui fare attenzione, in cui si sarà particolarmente distratti e con la testa fra le nuvole, sono quelle di giovedì e venerdì, mentre le altre giornate sono piuttosto neutre. Per la bilancia, nonostante siano usciti tutti i pianeti veloci dal suo segno, da poco, non va molto male, perché Sole, Mercurio e Venere sono nel segno contiguo dello Scorpione, spesso le bilance hanno dei pianeti, oltre, diciamo, il Sole è in bilancia, ma potrebbero avere Mercurio e Venere nello Scorpione, quindi avere comunque un buon effetto. Inoltre, hanno Marte in posizione, favorevole e Saturno anche, e questi pianeti riguardano soprattutto la seconda e la terza decade. Terza decade che ha particolarmente bisogno di supporto perché sappiamo che riceve anche la dissonanza da parte di Plutone da ormai parecchio tempo. Quindi diciamo che Marte vi aiuta ad avere molta più combattività e questo vi aiuta a reagire. a livello emotivo lunedì non è il massimo soprattutto fino al primo pomeriggio, poi le cose migliorano con una luna favorevole, quindi in serata e anche nel corso di martedì e di mercoledì. Invece il sabato e la domenica attenzione perché potreste avere la luna storta e quindi scegliete delle attività rilassanti e che non vi mettano in contrapposizione con altre persone. Eccoci allo scorpione di cui un po' abbiamo già parlato all'inizio con Venere, Sole e Mercurio che rivitalizzano sicuramente gli appartenenti al segno. Inoltre anche Giove si è unito a Nettuno in buona posizione per lo scorpione soprattutto perché appartiene alla terza decade e quindi diciamo che le cose cominciano un po' a girare o a girare un po' meglio per gli scorpioni che hanno veramente subito un po' di tutto negli ultimi mesi quindi approfittatene per riprendervi e per risollevarvi un po'. A livello emotivo la giornata di lunedì inizia piuttosto bene ma poi dalla serata fino alla sera di mercoledì potrebbe girarvi tutto un po' storto soprattutto a livello emotivo diciamo che potreste prendere un po' male delle parole delle espressioni a voi rivolte quindi sappiamo che reagite in modo piuttosto ovviamente in questi casi ma tutto migliora da giovedì anzi dalla sera del mercoledì quindi giovedì venerdì veramente saranno le giornate migliori in cui concentrare le attività più importanti della settimana e un weekend in diciamo con la luna in un segno neutro per cui tranquillo per il sagittario per il sagittario quelli della terza decade non è il massimo questo periodo perché si concentrano ben tre dissonanze quella di marte che è nel segno opposto al sagittario e quella di giove nettuno che sono i signori del segno del sagittario e sono in questo momento in dissonanza alla terza decade quindi terze decadi del sagittario mi raccomando non osate troppo cercate di essere prudenti nelle vostre azioni perché non è il momento di strafare o di fare il passo più lungo della gamba la prima decada è piuttosto tranquilla mentre la seconda è molto più appoggiata perché riceve il supporto di Saturno che aiuta quindi a portare avanti i propri obiettivi con costanza dal punto di vista emotivo ottime le prime due giornate della settimana e il weekend quindi insegni la luna insegni positivi insegni favorevoli al sagittario attenzione alle giornate dalla sera del mercoledì alla sera del venerdì perché con la luna anche in pesci ebbene sono diciamo da prevedere gaff distrazioni quindi fate attenzione a quello che dite oltre che a quello che fate per il capricorno dopo un periodo un po' ad alti e bassi si apre un periodo positivo perché i pianeti in scorpione portano buona energia al capricorno e anche quelli in pesci quindi abbiamo tutte le decadi piuttosto coperte per il capricorno giove e Nettuno portano espansione portano un po' di fortuna e comunque una sensazione di ottimismo a chi è nato nella terza decade mentre i pianeti veloci coprono un po' tutte le decadi del capricorno in questo momento si occupano della prima e della seconda decade urano è sempre in buona posizione dal toro e colpisce colpisce positivamente sempre la seconda decade quindi direi che questa settimana sarà molto positiva fervida di cose di progetti questo è il momento un po' per buttarsi cari capricorni e un po' tutta la settimana lavorativa sarà molto positiva per voi mentre il weekend un po' perché forse vi sarete un po' esauriti un po' stancati ma poi perché c'è la luna in un segno dissonante ebbene vi consiglio di passare il weekend in modo tranquillo senza sforzarvi troppo state un po' a casa dedicatevi delle cose tranquille l'acquario dopo un paio di mesi da leone con tutti i pianeti nei segni d'aria quindi segni favorevoli ebbene adesso devono un pochino tirare i remi in barca e limita autolimitarsi non sfruttare più così tanto le proprie energie al limite ma appunto regolarsi un po' di più perché il passaggio dei pianeti veloci in scorpione sicuramente è sempre un momento critico per l'acquario e anche la solita perché ormai è da lungo tempo che c'è dissonanza di urano dal toro se appartenete alla seconda decade riuscite a portare sempre avanti con molta determinazione i vostri obiettivi mentre quelli della terza decade sono molto vitali e molto pieni di iniziativa grazie al buon aspetto di marte attenzione se appartenete alla prima decade alla vostra comunicazione perché rischia di essere un po' frammentaria e confusa questa settimana tuttavia a livello emotivo la luna è in segni o positivi al vostro o neutri quindi potete tranquillamente aspettarvi di avere un umore stabile arriviamo infine ai pesci che hanno tantissimi supporti in questo periodo prima di tutto quello dei pianeti veloci ma anche quello di urano giove nettuno plutone che sono invece pianeti più lenti e quindi questo è un momento sicuramente per osare per agire per andare fino in fondo ai vostri progetti cari pesci considerando poi che questa settimana la luna è in segni positivi o neutri è positiva il lunedì è positiva dalla sera del mercoledì a quella del venerdì quando è nel vostro segno e quindi la vostra intuizione è ancora più rafforzata e amplificata mentre durante il weekend è in un segno neutro quindi diciamo che potete proprio sbizzarrirvi questa settimana e osare e fare e mi raccomando lanciatevi anche se avete Marte soprattutto se siete della terza decade dissonante quindi attenzione per chi è della terza decade rimanete concentrati ebbene abbiamo finito la nostra rassegna zodiacale io vi auguro ancora prima di tutto un buon Halloween un buon so win e ci sentiamo la settimana prossima e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monicaamarillis.com